Puoi utilizzare Target Navigator mediante un menu tradizionale o mediante la sua metafora interattiva. Per iniziare, leggi questo documento e per le prime curiosità consulta le FAQ. Puoi sempre chiedere e ricevere assistenza e, se lo desideri, puoi confrontarti con gli esperti utilizzando Facebook e Twitter. Le tabelle si presentano con questa interfaccia semplice e intuitiva, la ricerca e le funzioni. Ma, per saperne di più, puoi sempre consultare l'ELP, che descrive le funzioni d'uso e i campi della tabella. Questa è la tabella degli obiettivi e da qui passiamo a quella degli indicatori. Nella quale si fissano i valori target da raggiungere. Da qui passiamo alla tabella dove puoi definire il tuo piano di lavoro, descrivendo attività e tempi. Target Navigator funziona come un navigatore per auto. Infatti, dopo che hai definito la meta e fatto un'analisi di contesto, cioè da dove parti, potrai sempre sapere come tenere la rotta, con report ed email di alert che ti terranno informato sul livello di efficienza ed efficacia della tua performance e sulla scadenza delle attività.